L'amministrazione comunale già da settimane ha annunciato l'intenzione di iniziare il processo di stabilizzazione dei precari. Lei per primo però in consiglio comunale ha detto che questo processo è irrealizzabile. Lo conferma? Io non dico che è irrealizzabile. Io dico che oggi il sindaco parla tanto di stabilizzazione dei precari, bandandosi che sta attuando la stabilizzazione soltanto di alcuni precari. Io voglio ricordare che già la passata amministrazione di cui io facevo parte aveva avviato il processo di stabilizzazione per stabilizzare tutti i dipendenti comunali che lavorano a contratto determinato a Piedemonte. Di fatti già nel 2012 approfittando di una specifica normativa regionale erano stati banditi con un apposito atto deliberativo i relativi bandi di concorso, bandi di concorso che sono state addirittura pubblicate nella gazzetta ufficiale e a cui sono anche seguiti le relativi domande di partecipazione. Quindi questo è nel 2012. Poi con l'avvento dell'amministrazione Puglisi nel giugno 2013, pur essendoci le procedure concorso alle aperte, pur essendoci la normativa regionale ancora in vigore che permetteva la stabilizzazione di tutti i precari, il sindaco Ignazio Puglisi ha pensato bene di non procedere alla selezione di questi candidati e quindi bloccando quelli che erano stati concorsi già banditi. Addirittura ha revocato con un proprio atto l'atto deliberativo della Presidente dell'amministrazione che aveva bandito questi concorsi. Quindi io dico ora, con il sofferenza del mandato elettorale e con la prossimazione della campagna elettorale, con, rifacendoci ad una normativa nazionale, sta attuando la stabilizzazione di alcuni precari. Dico alcuni precari perché sta vedendo praticamente primeggiare, stabilizzarsi, soltanto 5 degli oltre 50 lavoratori a tempo determinato che lavorano a Piedemonte a Teneo e che da oltre 25 anni si battono per avere la tanta cognata serenità stipendiale, serenità lavorativa, c'è gente che già ha fatto a una famiglia, gente che da 25 anni campa di questo stipendio. Quindi, ripeto, così facendo il Sindaco sta soltanto aggiungendo soltanto 5 degli oltre 50 precari che lavorano a Piedemonte, creando certamente una discriminazione all'interno del lavoro dei precari. Quello che dico io, oggi una serie di amministrazione, una serie di programmazione, doveva fare in modo che la lotta per la stabilizzazione doveva guardare tutti i 50 lavoratori per il caso di Piedemonte a Teneo che da oltre 25 anni si battono tutti insieme. Il problema è la copertura finanziaria però. La copertura finanziaria, anche questo qui, la copertura finanziaria è che a tempo quando c'era il Sindaco, quando si è iniziato il Sindaco di Nassu Puglisi, c'era. Perché? Perché i costi di questa stabilizzazione erano per un po' di tempo a totale carico della regione comunale. Oggi invece sono a totale carico del balancio comunale. E quindi, così facendo, può stabilizzare soltanto un paio, alcuni lavoratori a tempo determinato, non tutti, facendo solo a questa normativa nazionale. Se invece lui avesse attuato la normativa regionale, questo era a totale carico, per un paio di anni, della regione siciliana.